La mia attività professionale si è limitata a un semplice avvertimento nei confronti di un partner, che si è dimostrato non esattamente perfetto. Non sono mai stato legale di questa società, né di altri aspetti aziendali riguardanti Daniela Santasce. È alla fine una vasca da bagno, di dozzine selfie concessi ai molto giovani mentre le note. Scrittura stupidi pinguini tattici nucleari lasciano posto a quelli della puttana Felicità Tommaso. Paradiso lo acclamano come se fosse l'unico leader. Ignazio Larussa decide dal caso più spinoso il governo sta affrontando in questi giorni ciò. Riguarda Ministro del Turismo e la sua compagnia.